Bella ragazzi, qua Ghiotto, buon martedì, mi raccomando subito un like al video, iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram perché sto facendo i sondagioni per quanto riguarda il migliore, per decretare il migliore della stagione della Lazio e poi già oggi penso che registrerò le pagelle, le mie pagelle della Lazio e poi nei prossimi giorni il video sarà online tra l'altro sto dando anche i voti a squadra per squadra, un giudizio anche abbastanza approfondito sempre su Instagram quindi che ve lo dico a fare? Seguitemi, trovate tutto nel primo e unico link in descrizione ma parliamo ragazzi di calcio mercato Lazio, domani ci sarà poi ancora una giornata di grande calcio diciamo ci sarà a Tirana la finale di Conference League, sappiamo Roma-Feyenard quindi sicuramente ci sarà un video posto, una live per parlare, speriamo non del primo successo europeo da parte dei giallorossi ma adesso pensiamo al presente, pensiamo ad oggi alle notizie che impazzano di calcio mercato intanto aspettiamo novità su Marcos Antonio che pareva tutto fatto quindi io sono tranquillo perché mi fido della mia società, sono ironico ragazzi perché io non l'avesse capito quindi aspettiamo poi la fumata bianca come si suol dire ma c'è una priorità a mio avviso che è un ruolo fondamentale che magari a volte si sottovaluta il portiere sappiamo Stracoscia ha salutato i compagni col Verona subendo tre gol ma vabbè diciamo Stracoscia comunque ha concluso secondo me una parentesi della sua carriera importante in cui comunque volento e nolento ha fatto bene infatti anche il voto che poi darò alla sua stagione è positivo c'è una brutta notizia ma poi tra virgolette che Reina dato che ci siamo qualificati per l'Europa ci sarà diciamo verrà esercitata l'opzione del prolungamento del suo contratto ancora per un anno quindi Reina praticamente lui è un 82, ha 40 anni anzi addirittura nella prossima stagione andrà oltre i 40 sarà ancora il secondo portiere della Lazio quindi bisogna prendere un primo e si va tutto forte su Marco Carnesecchi classe 2000 lo conosciamo portiere dell'Atalanta uno dei vivai se non il vivaio migliore in Italia protagonista assoluto della Nazionale Under 21 da anni e soprattutto della Cremonese di Pecchia tra l'altro allenatore che ha scelto di andarsene via mi dispiace comunque la Cremonese è un progetto bellissimo sono certo tanti giocatori in prestito quindi si farà fatica a dare poi un futuro a questa squadra in Serie A però per quanto riguarda il presente è una squadra che ha mostrato tanti giovani ha portato alla ribalta giocatori come Carnesecchi, come Fagioli, come Ocoli e anche quest'ultimo non a caso è di proprietà dell'Atalanta quindi complimenti alla Cremonese, complimenti a Carnesecchi che è stato veramente bravo ma diciamo ormai sono anni che non magari nel grande calcio però è un giocatore che fa parlare di sé ed è pronto a questo salto di qualità quindi io sono contento se noi punteremo su un giovane ve l'ho già detto ci sono dei dubbi su questo ragazzo non tanto sul suo valore perché poi se noi lo andiamo a prendere vuol dire che la Lazio lo visiona mi auguro io da anni, da mesi perché poi il portiere ha un ruolo fondamentale non è un ruolo che si può sbagliare il portiere se sbaglia a prendere il portiere poi sono cazzi amari come se si vuol dire per tutto il campionato quindi attenzione quindi linea verde Sarri poi piace a un portiere bravi con i piedi anche poi una fisicità importante Carnesecchi Sarri ripeto con i giovani aperto a differenza magari di Inzaghi che era un po' più restio sui soliti uomini la Lazio sappiamo il vivaio non ne produciamo da anni giovani questo è sicuramente un handicap quindi io sono contento se si punta su un Carnesecchi ma diciamo ci sono due ostacoli allora innanzitutto l'Atalanta che non è una società diciamo amica è un pezzo pregiato quindi chiederanno di tanti soldi quindi non so se poi la Lazio li sborserà magari si potrà andare su un profilo io mi immagino non so un Cragno dato che il Cali ha il retrocesso ripeto a me piace molto Vicario mi piace molto Montipò e poi l'altro ostacolo ma in realtà non è un ostacolo è più un dubbio che ho io dovesse venire Carnesecchi io poi ho paura che alla fine magari conseguenta qualche prestazione perché io mi immagino magari Carnesecchi passa a giocare nella Cremonesa la Lazio potrebbe incappare all'inizio in qualche difficoltà ok poi mi auguro di no vediamo se arriva però io vado già avanti con i pensieri non vorrei che poi ci ritroviamo come quest'anno che poi Sarri fa giocare Reina perché Sarri comunque stima molto Pepe Reina Reina comunque per carità è ancora un portiere che sta bene fisicamente perché poi se gioca ancora si ha deciso di prolungare c'è un motivo quindi Reina da chioccia si va benissimo anche se io francamente non avrei rinnovato il suo contratto sarei andato piuttosto su un Sirigu se vogliamo come secondo portiere o un Provedel se veniva a fare il secondo magari potevi prendere un portiere diverso da Carnesecchi Carnesecchi come secondo però Carnesecchi come secondo costa troppo in effetti è una cosa infattibile però io benvenga Carnesecchi ripeto non vorrei che poi ci ritroviamo con Reina titolare che con tutto il bene che li voglio Reina l'abbiamo visto quest'anno poi anche nelle pagelle vi dirò un dato praticamente ha subito gli stessi gol di Stracoscia ma giocando la metà delle partite e mi fermo qui e mi fermo qui poi l'altro nome Caldo che anche qua piace molto a Sarri e vedete che il calciomercato verrà fatto in linea con quello che vuole l'allenatore ed è giusto così è chiaro nei limiti del possibile perché la Lazio sappiamo non ha un grande potere economico comunque Allan classe 91 dell'Everton quest'anno si sono salvati così appunto i Toffis la squadra è allenata da Frank Lampard sappiamo tutti com'è andata un 3-2 clamoroso alla fine e quest'anno Allan ha giocato non ha avuto infortuni quindi un giocatore integro fisicamente rispetto agli anni scorsi dove qualche problemino l'ho avuto ha giocato ho visto circa una trentina di partite comunque quasi tutte da titolare poi non sempre ha concluso la partita comunque un giocatore che sta bene ancora fisicamente è ancora integro diciamo non è più quell'Allan di Napoli però chissà che alla Lazio possa diciamo nel centrocampo a tre in una formazione offensiva che però ha bisogno di un incontrista come Allan che ti sappia fare le due fasi che corra eccetera sarebbe un acquisto interessante l'età la carta d'identità non mi aggrada perché 91 già abbiamo una squadra vecchia nel vivaio giovani non ne abbiamo il solito discorso andiamo ancora a prendere Allan ha un ingaggio comunque pesante dovrà ridimensionare le sue richieste assolutamente poi vai a fare un contratto di tre anni perché lui chiede ovviamente una certa garanzia a uno di 31 anni praticamente 32 poi nella prossima stagione 22 23 non lo so lui ha un contratto nel 2023 e i Toffi comunque l'avevano pagato 25-30 milioni abbastanza adesso il prezzo francamente io non andrei mai a spendere più di 7-8 milioni per Allan ma forse anche meno considerando che ho un contratto in scadenza fra un anno quindi diciamo come caratteristiche mi piace Allan per il resto francamente ho qualche dubbio ecco mi piacerebbe andare su altri profili sicuramente più giovani magari ancora anche con più fame però diciamo è un fedelissimo di Sarri e se il giocatore verrà valutato che sta bene che può ancora dare perché no in effetti manca un giocatore come Allan un giocatore brevilineo perché per esempio abbiamo Banzic che però è un giocatore alto anche macchinoso un po' troppo simile a Milinkovic cioè se tu giocassi metti che vada via Luis Alberti ipotizziamo che potrebbe anche essere giocando con intanto bisogna prendere poi il centrale davanti alla difesa quello bisogna ancora dirlo perché è andato via Leve Cataldi non è all'altezza anche se poi è un giocatore comunque anche bravo con i piedi però giocare con Milinkovic c'è base c'è rischio di avere un centrocampo troppo macchinoso troppo compassato quindi un Allan cavolo ce lo vedrei bene dal punto di vista tattico lì nei tre però vediamo diciamo che non è che c'è solo Allan con quelle caratteristiche lì si potrebbe andare su altri profili comunque ragazzi le notizie di oggi le notizie di oggi sono un po' queste qua Patrick anche diciamo dovrebbe rinnovare come pensiero finale e niente like al video tanti like se volete ogni giorno video aggiornamento di calciomercato di Lazio domani diciamo penseremo a gufara la Roma quindi vi aspetto poi domani sera niente vi ripeto seguitemi su Instagram ciao ragazzi bella